Juventus è vicinissima alla conquista della Champions League della Coppa Campioni il punteggio Ajax 3, Juventus 5 dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e dei tempi supplementari qui Peruzzi si è superato, non era affatto facile intuire questo calcio direttore battuto dal fluidificante di destra dell'Ajax, un tiro molto preciso accanto al palo di sinistra Peruzzi anche in questa circostanza si è mosso soltanto all'ultimo momento con la mano sinistra è riuscito a toccare il pallone seguiamo adesso Juventus, l'uomo incaricato di consegnare a Lippi e i suoi compagni di squadra la Coppa dei Campioni 95-96, rincorsa lunghissima, parte da fuori area Juventus, il contatto, la palla a Lippi la Juventus è campione d'Europa, esplode la gioia dei giocatori di Lippi che vanno ad abbracciare Peruzzi grande protagonista della serie dei calci di rigore